Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi pescata in questo laghetto, si tenta il bus, con me ovviamente c'è come sempre il professionista Gianluca, vediamo se oggi uscirà qualcosa. Grazie. Vorrei capire come mangiano. No. Secondo me sta sotto. Sotto arriva non c'è un c***o, non si vede niente. Adesso si ne aveste uno forse, è che non ci arrivo. C'è un c***o bello. Sotto arriva non c***o, non c***o, non c***o, non c***o, non c***o. Sotto arriva non c***o, non c***o, non c***o, non c***o. Non c***o, non c***o. No, prendo la pinza un attimo, via! Raga, bombolone, era sotto riva, pescato con un vermone, ebrea, Texas, Pinesi, bellino, per manzino, e in quest'acqua nutrida, con le nutrie, vai stupido, nello specifico l'esca vincente è stato questo vermone, giallo, fluo, verde, lime, e questo amo, classico per pescare a Texas. Per chi non lo sapesse, l'inesco a Texas e si presenta così, come vedete la gomma è innescata nel lamo che lo nasconde, così rimane anti-incaglio, quindi se si prende le alghe non puoi i rami o qualsiasi cosa non si incastra, e quando il pesce mangia esce il lamo e lo infilza. adesso è innescata un po' male perché mi ha già mangiato e l'ha rovinata un po'. Raga, ho inculato la canna da casting del professionista, adesso gli faccio due parrucche. qua sotto ho sentito un verso. Ma secondo me ti salvi su nel lago di Lago. Dici? Non parrucche ma lanci tutto storto, mica volevo lanciarli. L'incrocio funziona però eh. sei su otto? no sei su otto? no ecco adesso un parrucchino l'ho fatto. si cambia zona del lago. andiamo nella giungla. finché quei pantaloncini corti qua non è il massimo. figa pieno, aia, aia. è pieno pure di, aia, aia. api? si? ma le api in teoria non ti mordono. in teoria. sei buona eh? che mi hai già morso la tua amica vespa. no dai vieni oh. dai che pescatore sei? fidati via. porca troppa era qua. hai scappato da qui lì a Gallo? eh si te l'ho detto che sono qua sotto. ci sono tutti gli avanotti. era qua a proteggerli. guarda è andato qua sotto. pure lì? si si è qua. raga dopo la pescata bassa siamo venuti a provare nel torrente e vedere se mangiavo qualche caccavedano ma è magra, è magra. non abbiamo preso niente per cui ora torniamo a casa. spero che questo video vi sia piaciuto. bel bus. catturato nel sottoriva. come al solito se volete vedere altri video iscrivetevi al canale, lasciate mi piace. se volete seguirmi su instagram il mio nome è andrewolp.fishing e noi ci vediamo con il prossimo video. ciao! ciao!